Noi l'abbiamo detto più volte, abbiamo detto che questo modello della moneta unica è sbagliato e nocivo, non esiste nessuno, nessuno pensa al mondo che ha una moneta scollegata dall'economia reale, noi diciamo che serve un altro modello di moneta, cosa vuol dire? Può essere l'euro a due velocità, può essere anche il ritornare a moneta nazionale. La certezza è che questo modello sta facendo del male, di più. Sai dove voleva arrivare, per esempio, al fatto che non ci arrivassero le lettere dalla BCE, come avete fatto voi votando le riforme Monti per tagliare le pensioni? Io vorrei arrivare in un momento nel quale non ci arrivi dall'Europa, come avete fatto voi votando la legge di stabilità Monti, dove le tasse sulla casa passano da 9 a 25 miliardi per imposizione europea. Vorrei arrivare in un momento nel quale faccio degli investimenti per creare lavoro e aiutare i nostri giovani, ricordo che siamo al massimo storico, più del 40% di disoccupazione giovanile, ad avere un futuro. Questo è il nostro obiettivo, il nostro programma, probabilmente il vostro è quello di inchinarvi alla Merkel, siamo diversi, cosa vuoi fare? Avevo capito che non stavano nel paese delle favole. Siamo diversi.